Musica Appassionati di Pallamano ben ritrovati, nuova puntata settimanale con Handball Mania, il format in cui approfondiamo insieme le tematiche legate alla Pallamano italiana, agli accadimenti, soprattutto quelli legati al campionato e allora alla Serie Gold e alla Serie 1, alla maschile ed al femminile, nella seconda soprattutto, lo vedremo nella seconda parte, ci sono accadimenti interessanti per quanto riguarda la vetta della classifica, tra gli uomini però l'ultimo, quello che è andato agli archivi è stato un fine settimana molto interessante anche oltre confine in ambito europeo, si è giocato in Italia, si è giocato in modo particolare a Fasano dove la Sidea Group Junior a Fasano è scesa in campo per l'andata degli ottavi della European Cup ha affrontato i croati del Sesvete che hanno vinto di misura 35-34, tutto però rimane aperto in vista della gara di ritorno che andrà in scena domenica prossima in terra croata, una sola rete di distanza, di fatto numericamente parlando, statisticamente parlando è quasi 1-0-0, però voglio chiederlo alla tecnico della Sidea Group Junior a Fasano, Vito Fovio, che è in collegamento al nostro gradito ospite in questa puntata di Handball Mania, ciao Vito. Ciao Matteo, ciao. Sì, dicevamo di questa partita, 35-34, che partita è stata? Una partita in cui siete partiti molto bene, siete stati in vantaggio, avete messo il naso avanti subito sul 6-1, poi Sesvete però si è dimostrata e non poteva essere altrimenti, agli ottavi ci sono solamente squadre di ottimo livello, si è dimostrata squadra forte, è tornata, è andata nettamente in vantaggio, alla fine ti soddisfa in vista della partita di ritorno oppure no questa sconfitta di misura? Sicuramente è stata una partita molto equilibrata, quindi perde di uno, vince di uno, cambia poco, nel senso che comunque per passare il turno dobbiamo cercare assolutamente di far risultato lì. E' detto bene tu, siamo partiti benissimo noi sul 6-1, poi c'è stato un normale rientro loro, poi abbiamo pagato i primi 5 minuti al secondo tempo una serie di palle perse, che in ambito internazionale ogni palla perse è un gol in contropiede, però dalmeno 6 siamo passati in parità e nell'arco di 10 minuti, ripeto, una partita molto equilibrata, noi avevamo comunque due rotazioni in meno, vista l'assenza di Notarangelo e l'utilizzo a metà servizio di Filippo Angiolini. Siamo soddisfatti a metà, però siamo consapevoli di poterci giocare le nostre carte lì in Croazia, anche se sarà molto difficile, comunque un campo molto caldo, sarà una bella partita. Tra l'altro c'è quella che è un po' una novità per voi in questa stagione di European Cup, perché voi giocate per la prima volta in trasferta, avete sempre giocato in casa fino ad ora tutti i turni che siete riusciti a superare, peraltro anche in maniera brillante, nell'ultimo, in ordine temporale, avete eliminato la formazione olandese dei Cambit Lions. Ecco, questo fattore, il fattore palestra-zizzi, può incidere in negativo, chiaramente andata-ritorno non può non contare il fattore capo, però per voi è la prima volta in questa stagione in Coppa? Sì, è la prima volta, sicuramente avere la seconda in casa sarebbe stato un vantaggio, però voglio dire, se è anche giusto così, giocare anche fuori casa, perché anche come esperienza, per misurare le nostre potenzialità, andare a giocare il turno anche fuori casa, siamo contenti, diciamo. Quindi ci apprestiamo ad avvivere questa gara 2 con molta ambizione e molte aspettative. Come stai preparando la partita, insomma, ripartendo da quello che si è visto nella partita di andata? Che squadra hai visto dall'altro lato e ho avuto modo di vedere la partita? Sicuramente hai trovato un Fasano che al di là delle fatiche di Coppa è stata insieme a Bressanone, siete state le due squadre che hanno giocato di più in Coppa perché siete arrivati fino in fondo e comunque si è dimostrata una squadra, insomma, lucida, perché poi è stata anche capace, come dicevi bene, nel secondo tempo di riuscire dopo una situazione di difficoltà, dopo uno svantaggio che poteva mandare tutto a ramengo volendo. Ma noi, diciamo, siamo attraversando un periodo di buona forma, di ottima consapevolezza dei nostri mezzi. Ci è andata conferma la Coppa Italia che abbiamo perso più noi che vinto il Bressanone perché sbagliare 15 tiri dai 6 metri in una finale così equilibrata, diciamo, perdi la partita, però ci ha dato tanta consapevolezza. La stiamo preparando come le altre partite, ci stiamo allenando al massimo, cercando di adattare il nostro gioco alle caratteristiche del SESVET che ritengo veramente un'ottima squadra, soprattutto in attacco al terzino sinistro che di 21 anni è fortissimo, che ci ha messo in seria difficoltà. Cercheremo di adattarci al loro gioco e provare a giocarci le nostre carte anche lì in Croazia. Siamo d'accordo, credo, sul valore nella crescita dei giocatori, dei tuoi giocatori in questo caso, legata a queste esperienze, legata alla possibilità di giocare in Europa e, come sta accadendo a Fasano, anche di andare piuttosto avanti nella competizione. Sì, sì, noi, ripeto, siamo consapevoli della nostra forza, della nostra crescita e quotidianamente cerchiamo di migliorarci. Poi il campo darà il suo, diciamo, verdetto, però usciremo certamente dal campo da Zagabria con la consapevolezza di aver dato tutto, senza avere rimpianti e se sarà giusto il nostro passaggio, ci saremo di conquistare il passaggio tanto di guadagnato. Ore 19, domenica, si giocherà dunque, come dicevamo, proprio a Zagabria sul campo del SESVET la Junior Fasano riparte dalla sconfitta di misura della gara di andata, 35-34 il risultato finale con comunque la possibilità di seguire la partita in diretta su Levesports anche in trasferta e questa è sicuramente una novità molto interessante, la possibilità per tutti gli appassionati della Palamana italiana di seguire le vicende e le gesta della Junior Fasano anche nella gara in trasferta. Vito, ascoltando la telecronaca nel racconto della partita della settimana scorsa, della gara che avete giocato domenica mi è piaciuto un passaggio, credo, del vostro addetto stampo, del vostro teleconista Antonio Latartara nel quale ha definito Albin Jarlstam un allenatore in campo, la persecuzione, diciamo, di Fovio in mezzo al campo avete anche giocato insieme l'anno scorso, lo era già l'anno scorso un trascinatore, lo è forse ancora di più quest'anno? Ma sì, con Albin è facile lavorare perché comunque abbiamo una visione della Palamano molto simile ci piace il gioco veloce, ci piace l'organizzazione totale dell'attacco soprattutto con lui mi basta un cenno e lui fa tutto per bene in campo facendo il cambio attacco-difesa quando lui è in panchina ci mettiamo già d'accordo sul gioco da fare nell'attacco successivo reputo Albin veramente un grande giocatore che se al top la sua condizione è di livello europeo E questo si sta ovviamente proiettando e si sta vedendo anche nei risultati in campionato noi stiamo vedendo la classifica anche alla luce della gara che si è giocata ieri del recupero andato in scena nella casa della Palamano di Chieti tra il Campos Italia ed il Bolzano Vito, che campionato stiamo vedendo? Ma un campionato molto equilibrato molto avvincente dove non è semplice giocare da nessuna parte nemmeno si deve giocare in campi delle squadre di bassa classifica la maggior ragione nella parte alta della classifica è veramente un equilibrio totale che farà la differenza e il piazzamento finale per i play-off per avere il vantaggio in casa perché è veramente uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni E allora noi andiamo a fare il punto proprio ripartendo da queste parole di Vito Favio su quello che è successo nel fine settimana scorso ma anche su quello che dovrà accadere nel prossimo turno di campionato dove per la verità non ci sono veri e propri scontri diretti c'è un remake di quella che è stata per tante volte finale scudetto di Coppa Italia tra il Pressano ed il Bolzano che interessa soprattutto i gialloneri che sono rientrati prepotentemente nella lotta per il quarto posto anche se ovviamente l'abbiamo visto nella classifica bisognerà attendere poi i recuperi proprio di Fasano che non sta scendendo in campo per la via della European Cup servizio dicevamo, allora vediamolo insieme I rinvii, le decisioni del giudice sportivo e i risultati che come sempre si incrociano e danno vita ad equilibri di difficile lettura rendono interlocutori alla fase che la Serie A Gold vive e fa vivere le sue 14 squadre Certezza incrollabile delle 19 giornate fin cui andate agli archivi è lo strapotere esercitato dal Brixen per nulla distratto dalle imprese della Coppa Italia e anzi apparso solidissimo nel 42-29 maturato sul campo del Carpi Pronostici rispettati certo ma la squadra di Davor Ciutera è brava a rimanere focalizzata sui suoi obiettivi all'orizzonte c'è la gara casalinga contro la Team Network Albatro senza lasciarsi distrarre dalla prova di forza con la quale Conversano batte intanto 30-25 l'Alperia Merano alla Pala San Giacomo di ben altro peso rispetto agli altoatesini due punti raccolti dai pugliesi davanti al loro pubblico bianco-verdi sempre avanti grande partita del polacco Vrubel e secondo posto solitario lo stop della SIDEA Group Junior Raffasano dovuto agli impegni di European Cup in Ganna maschera un po' i valori della classifica ma sta di fatto che la diciannovesima giornata restituisce un duo formato da Raymond Sassari e Pressano a 25 punti e con due sole lunghezze di ritardo sulla quarta posizione e quindi sui playoff scudetto i sardi risolvono il Rebus Campus Italia vincendo 40-30 nella casa della Pallamano di Chieti e con il loro tecnico Zupo e Kisoin guardano avanti mi parola è sempre uguale partita 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 now ora adesso prossimo partito Carpi prossimo partito Siracusa finisciamos febrero dopo due settimana di riposo per la nazionale dobbiamo vencere i quattro punti però primo partito Carpi dopo guardiamo classifica guardiamo dove stiamo discorso discorso analogo per i gialloneri che in camera erano due punti di grande rilevanza nelle 29-24 del Palavis contro Cassano Magnago all'orizzonte ora c'è la classicissima del Nord Italia sul campo del Bolzano sfida da ex per il tecnico dei Trentini Alessandro Fusina diciamo stiamo tenendo duro siamo ben preparati perché arrivare a questo punto con pochissime rotazioni e a disputare gare così combattute e anche vincerle vuol dire che siamo ben preparati nella quadro dei risultati di sabato scorso due accadimenti geograficamente distanti ma collegati dalla classifica che impattano entrambi sulla zona salvezza il 30-24 con cui Siracusa ha battuto a Bolzano unito al secondo successo stagionale della Romagna 30-27 a spese della Banca Popolare Fondi porta i siciliani a più 3 proprio dai rosso-blu laziali e dall'area russa della classifica che fa rima con play-out e sabato prossimo a proposito al Palabursi c'è il derby tra Secchia Rubiera e Romagna questo è il quadro dunque di quello che è accaduto di quello che dovrà accadere in Serie A Gold facciamo il punto anche dando un'occhiata alla grafica che invece ci illustra nel dettaglio le partite del prossimo turno che si aprirà alle 17.30 con la gara tra la Raimond Sass e Redilcarpi a seguire Bolzano-Pressano il derby del Trentino Alto Aldigi Alperia-Merano che riceve in casa i giovani del Campus Italia Banca Popolare Fondi Conversano Secchia Rubiera-Romagna il derby salvezza il derby dell'Emilia-Romagna appunto salvezza della Serie A Gold e poi Brixen contro Team Network Albatro Vito voi ovviamente giocate in Europa e questo si inserisce stavo dando un'occhiata al calendario prima di averti in onda qui con me e si inserisce in un vero e proprio tour de force per voi perché di fatto voi avete giocato la finale di Coppa Italia quindi tutte le finals adesso le due partite di Coppa poi dovrete recuperare naturalmente le gare rinviate e nel mezzo avete quella doppietta con Conversano e Bressanone una dopo l'altra ma sì abbiamo tour de force speriamo di recuperare diciamo Notarangelo e Filippo Angiolini il prima possibile per avere diciamo il massimo delle rotazioni possibile ce lo giocheremo speriamo senza avere altri problemi fisici ma fa parte diciamo del gioco nel senso che è inevitabile giocando in Europa può ritrovarsi a dover giocare praticamente ogni tre giorni è un discorso quello legato al primo posto della classifica che vede in questo momento Bressanone a 35 con un vantaggio di 6 punti sul secondo posto lo ripetiamo voi dovete recuperare dovrete recuperare poi da lunedì di fatto due partite è un discorso secondo te ancora aperto ancora possibile quello legato al primato? Ma penso di sì perché comunque Bressanone deve venire a Fasano deve andare a ha perso già a Conversano più partite fuori casa non può vincere in eterno a qualche punto lo perderà vediamo anche le altre squadre se riesceranno a diciamo a tenere il passo ma fino a questo momento Bressanone è stato troppo perfetto prima o poi dovrà collare penso non c'è dubbio non c'è dubbio che peraltro da un punto di vista mentale la Coppa Italia abbia aiutato e aiuterà sicuramente Bressanone ad acquisire fiducia nei suoi mezzi ti chiedo invece relativamente alla tua squadra perché voi è vero avete perso in finale ma tutti hanno visto e hanno avuto sotto gli occhi le grandi prestazioni di Fasano nel corso delle finals e allora ti chiedo se nonostante la sconfitta è finale e ovviamente per un vincente come te vincere poi è l'unica cosa che conta ma ha aiutato la tua squadra da un punto di vista mentale quindi nella crescita mentale nell'acquisire fiducia in se stessa questo raggiungimento della finale di Coppa Italia noi siamo usciti ci siamo eravamo demoralizzati dal fatto di non aver vinto la Coppa perché ripeto poi analizzando la partita abbiamo anche disputato un'ottima finale però sbagliando 15 tiri dai 6 metri fai fatica a vincere Polarovic ha fatto una partita fantastica e è andata così però siamo usciti dal campo consapevole della nostra forza e abbiamo alzato anche la nostra ambizione nel senso che siamo conscienti di poterci giocare il titolo fino alla fine del campionato vogliamo dire anche la nostra ti tengo lì Vito perché parliamo anche rapidamente di nazionale in questa prima parte il campionato come detto proseguirà lo farà per le prossime due settimane poi ci sarà una lunga pausa di quasi un mese tre settimane per dare spazio appunto agli impegni della nazionale azzurra allenata da Riccardo Trillini nelle qualificazioni a Euro 2024 l'Italia che dovrà sfidare in doppia gara il 9 ed il 12 marzo la Lettonia stiamo vedendo proprio nelle immagini intanto il promo dedicato alla gara casalinga che si giocherà il prossimo giovedì 9 marzo alle ore 16 al pala Giovanni Paolo II di Pescara secondo appuntamento consecutivo a Pescara per l'Italia dopo quello contro la Francia i biglietti sono in vendita già dalla giornata di ieri su Viva Ticket Vito sono due partite assolutamente fondamentali tu che ne hai giocate tante di partite fondamentali ne hai giocate tantissime con la maglia della nazionale due partite assolutamente da non sbagliare peraltro contro un allenatore che ci conosce piuttosto bene che è Davo Ciutra che allena proprio nel nostro campionato con Bressanone Sì penso che sono due partite assolutamente da vincere e sono assolutamente la nostra portata perché comunque stiamo giocando un'ottima palla a mano e penso che abbiamo tutte le carte in regola per vincere contro la Lettonia e poi cercare il diciamo di fare la grande prestazione contro la Polonia quindi io sono convinto e molto fiducioso per il proseguo delle nostre qualificazioni Italia che come dicevamo dovrà affrontare per l'appunto la Lettonia lo farà il 9 marzo poi il ritorno si giocherà a Valmiera nella giornata di domenica 12 marzo il tutto come diceva bene Vito Fovio con lo sguardo e con la mente rivolta naturalmente all'appuntamento del prossimo 27 aprile al Palasporto di Vigevano Italia che dovrà affrontare la Polonia ma perché quella partita possa essere decisiva sarà assolutamente fondamentale fare punti e piazzarsi davanti alla Lettonia al terzo posto del gruppo 8 di qualificazione rimaniamo in Europa e lo facciamo gustandoci insieme con l'aiuto delle immagini la top 5 goal della Champions League del scorso fine settimana Vito ti faccio scegliere quello che ti piace di più tra questi 5 e poi ti lascio andare andiamo subito alla posizione numero 5 dove c'è il solito funambolo Timur Dibiro con questa girella giocatore passato allo Zagabria dopo una lunga militanza in Nord Macedonia con la maglia del Vardar con cui ha vinto due Champions League e queste gire le ce le faceva vedere prima e ce le fa vedere anche adesso Lucas Sandel alla posizione numero 4 invece giocatore proveniente dall'Alborg squadra danese ma di provenienza svedese lo rivediamo qui in caduta riesce a coordinarsi e conclude dietro la schiena Madsen del Gudme alla posizione numero 3 con questa volante per finalizzare appunto la rete pallone largo direttamente sull'ala e poi la conclusione vincente al volo numero 2 Dylan Naï questa l'abbiamo commentata insieme in diretta sui Leve Sports per il Chielse con intanto un grande non-look di Dussebaev e poi Naï il classe 99 francese che riceve il pallone in caduta e dietro la schiena la mette dentro grande grande passaggio però da parte di Alex Dussebaev e alla numero 1 un gol non tanto bello ma decisivo quello di Vlac che segna la vittoria e realizza appunto il gol decisivo con cui Lecselie batte il Nant e questo dunque il riassunto i migliori 5 gol della settimana scorsa in Champions League Vito il tuo voto per spettacolarità sicuramente quello di la coppiata Dussebaev e Naï è stato qualcosa di eccezionale sia il passaggio di Dussebaev che la coordinazione e il tiro di Naï sono d'accordo con te Vito insomma ti faccio ti facciamo un grande in bocca al lupo per questo impegno di Coppa di European Cup tutta l'Italia della palla a mano seguirà la Junior Fasano e saremo naturalmente tutti con il tricolore nelle mani per tifare per voi speriamo bene grazie Matteo grazie grazie per essere stato con noi grazie a Vito Fovio ricordo ancora l'appuntamento Junior Fasano che affronterà i croati del Sesvete in trasferta a Zagabria domenica ore 19 per il ritorno degli ottavi di European Cup in diretta su Eleven Sports adesso ci fermiamo perché nella seconda parte parliamo di Serie A1 femminile nel 2023 gli internazionali BNL d'Italia raddoppiano ecco due settimane di torneo e tabellone a 96 giocatori sarà un foro italico sempre più straordinario non puoi mancare compra subito il tuo biglietto non puoi mancare Grazie a tutti. 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 Fox Ferrara. Grazie a tutti. 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 Poi seguirà anche la grafica. Qual è stato appunto il destino? Quali saranno le avversarie dell'Italia nella Kermess dei campionati europei? In grafica per l'appunto i gironi alla maschile. Italia che dovrà affrontare Ungheria, Francia e i padroni di casa del Portogallo. Mentre per quanto riguarda il sorteggio femminile è stato un sorteggio nerissimo, dobbiamo dirlo, per la nazionale azzurra allenata da Daniel Lara Cobos che dovrà affrontare le due finaliste dell'edizione scorsa, la Germania e la Danimarca. Germania anche campione del mondo in carica, Danimarca come dicevamo finalista agli europei del 2021, oltre alla Francia questi dunque i gironi dell'Italia. Alla maschile, allenata da Pasquale Magliore al femminile Daniel Lara Cobos nei prossimi campionati europei di Bicenbola. Abbiamo fatto il punto sul momento della palla a mano italiana, della palla a mano azzurra, dei nostri campionati. Con Handballmania però torniamo la prossima settimana, l'augurio rimane quello di sempre. Buona palla a mano a tutti. Grazie a tutti.